Vittorio, cosa vuol dire organizzare un festival bar? Vuol dire lavorare tantissimo, perché c'è poco da fare, questo nostro mestiere sembra un mestiere frivolo, così allegrone, non è vero. Si deve lavorare tanto, ascoltare tutto l'anno le musiche, prevedere ciò che piacerà, cioè scegliere oggi ciò che piacerà domani e non è facile. Pensati soltanto, ne parleremo al momento opportuno, ne parlerai tu e poi in questi giorni ne parleranno tantissimo al fatto dell'estate sta finendo. Io l'ho scelta ad aprile e abbiamo incominciato a mandarlo in onda a maggio e pensati un pochino che cosa poteva pensare la gente a sentire già all'inizio dell'estate. Adesso purtroppo è diventato un fatto di attualità. Comunque voglio dire, si deve lavorare molto, si deve ascoltare tanta musica, cercare di vivere a contatto dei nostri meravigliosi giovani, perché sono loro. Poi la cosa più importante è che anche se abbiamo un po' di pancetta, abbiamo i capelli ormai grigi, però la cosa bella è proprio questa, di cercare di rimanere giovani attraverso la musica. E' l'unico sistema per continuare a rimanere giovani e vivere ascoltando la musica. E' l'unico sistema per continuare a rimanere giovani attraverso la musica. E' l'unico sistema per continuare a rimanere giovani attraverso la musica. E' l'unico sistema per continuare a rimanere giovani attraverso la musica. 3, 4, 3, 2, 1, 3! Sono arrivati proprio tutti, i cantanti, le Miss, Jerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda, con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medaio. Ci vediamo al Festival Bar dal 10 luglio, tutti i martedì, alle 20 e 30, sull'Italia 1! Da Jesolo, Jerry Scotti e Linda Lorenzi presentano Festival Bar 92, la festa più calda dell'estate, dove si ascolta la musica più bella dell'estate. Ma non finisce qui, ogni settimana splendide ragazze, le più belle d'Italia, sfilano sotto gli occhi di un pubblico esigente, nella speranza di vincere l'ambito trofeo di Miss Estate 92. Per la tua voglia d'estate, Festival Bar, martedì alle 20 e 30, su Italia 1! Lunedì e martedì, su Italia 1, gran finale del trentesimo Festival Bar! Dalla splendida Villa Manin di Passariano di Codroivo in Friuli, tutti i big di questa estate in musica, cantautori celebrati e miti consacrati. Il tutto presentato da Claudio Cecchetto con Amadeus e Federica Panicucci, con la partecipazione speciale di Fiorello, e naturalmente con le nove bellissime di Festival Bar Story! A chi andrà il trofeo del trentennale? Chi sarà il successore di Luca Carboni? Le risposte a Festival Bar! Lunedì e martedì alle 20 e 30, su Italia 1! Comincia l'estate! E su Italia 1 è Festival Bar! Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, il Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Rockset, Amedeo Minghi e tanti altri big della canzone e direttamente da Mai Dire Goal, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar! Martedì alle 20 e 30, su Italia 1! Nell'impareggiabile cornice del Parco Ducale di Colorno, torna su Italia 1 Festival Bar 95! Terzo appuntamento martedì 27 giugno 20 e 40! Con Raff, Gianluca Grignani, Spagna, East 17, Irene Grandi, Corona, De Piscopo, Antonacci, Mike and the Mechanics, Vernice, Tam, Tina Arena, Enzo Iacchetti ed altri! Nonché le bellissime di Luca Oftea! Tutto presentato da Amadeus e Federica Panicucci con Laura Freddy! La tua estate in musica si chiama Festival Bar! Martedì 20 e 40, Italia 1! Entriamo subito nel vivo della trasmissione, io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua! Vieni, 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 perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get It On! Pops and Skull! Yeah! Festival Bar 96 Terzo appuntamento con i big della tua estate in musica Dalla piazza del popolo di Fermo, Festival Bar 96 Mercoledì alle 20 e 40 su Italia 1 Ti aspettano Spagna, Di Gabue, Di Rotta su Cuba, Ron, Gianni Morandi, Big Soul, Ambra, Levin Joy, Paola Turci, Che, ragazzi italiani, Neck, Amanda Marshall, Antonella Ruggero, Latura, Federico Salvatore Presentati da Amadeus con Alessia Marcuzzi e Corona Festival Bar 96 Terza puntata mercoledì alle 20 e 40 su Italia 1 Mediaset, la vostra televisione Inizia l'estate e parte il Festival Bar E parte proprio da qui, Mantua, Piazza Sordello Ci sono proprio tutti, eh? Articolo 31, Patti Bravo, Giovanotti, Riccardo Cocciante Litfiba, Samuele Bertani, Neck, Spagna E tanti altri, quindi mi raccomando da non perdere il Festival Bar giovedì 5 giugno 20 e 45 Italia 1 E saremo proprio noi a presentarli tutti quanti Alessia Marcuzzi e... Che crede che la luce sia sempre una sola Che si distanza sulle cose E le colora di rosa Arriva l'estate Arriva il Festival Bar Sono tutti i big della musica giovane Colt, Lionel Richie, Fiorella Mannoia, Neck Piazza Antonacci, Giorgia, Simpiorelli, Patti Bravo, Eroson Amazzotti e tanti altri Tutti insieme, tutti questi big e ci sarete anche voi Su Italia 1 e il 27 maggio Festival Bar 1998 Presentato da Fiorello Fiorello e Raffaella... e Alessia Marcuzzi Scusa, faccio... Eh, sono fonte, capito? Festival Bar La tua estate... E musica! Dall'Arena di Verona Gli ultimi due grandi appuntamenti Con la tua estate in musica Alex Britti Piaggio Antonacci Sting Giovanotti Alexia Zucchero Anna Oxa Lou Vega Venga Boys Pino Daniele Angun Red Hot Chili Peppers Lene Marlin Jerry Halliwell Insieme a Fiorello e Alessia Marcuzzi Per le finali del Festival Bar 99 Lunedì e martedì alle 20.45 Inesclusiva Su Italia 1 Un appuntamento